Il Presidente è venuto, la c'è di più presentata. A me, a me, a me. Prego. Presentat, on! Onori, presentat, ciao! Onori, al suo altetto è minettissima il principe, che è il maestro del sacro militare, oltre il pazzo. A me, a me, a me. A me, a me. A me, a me. A me, a me. Bandiera della Marina Militare, banda della Marina Militare, il reparto d'onore pronti per la rassegna. A me, a me, a me. A me, a me, a me, a me. A me, a me, a me, a me. A me, a me, a me, a me, a me. A me, a me, a me, a me, a me, a me. A me, a me, a me, a me, a me. A me, a me, a me, a me, a me, a me, a me. A me, a me, a me, a me, a me. A me, a me, a me, a me. A me, a me, a me, a me. A me, a me, a me. Grazie. 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 visita in forma ufficiale, come nuovo governo dell'Ordio di Malta. Dopo quella del scorso anno, quando ancora io ero l'obtenente del Gran Maestro, e il governo era provvisorio. Dopo quella che ha il Santo Padre, una breve a Malta, il nostro ultimo senso è scoperto. Grazie per la visione!